Sì, infatti, non poteva mancare nell'anno dedicato a Italo Calvino una serie di iniziative sia per ragazzi e ragazze che per adulti dedicate a Italo Calvino. Era doveroso trovare dei momenti per rileggere, riapprofondire e magari conoscere la letteratura e il grande insegnamento e la contemporaneità degli scritti di Italo Calvino. Grazie.